e bentornati e benvenuti ragazzi in questo nuovo gameplay come sempre prima di iniziare il gameplay ragazzi vi vado a ricordare che giù in descrizione se lo potete acquistare questo e tanti altri giochi scontati in descrizione anche trovate i miei canali solcher come ad esempio tik tok twitch discord instagram per poter parlare con me come ad esempio vi apparirà il tag inizio video vi ricordo anche se siete nuovi nel canale ovviamente di iscrivervi con la bella iscrizione lasciando un bel like e soprattutto anche perché no condividere detto questo ragazzi do il benvenuto ovviamente anche a tutti i nuovi iscritti ovviamente un saluto generale anche ovviamente ai moderatori nell'ultima volta che non mi ricordo niente non so cosa dobbiamo fare perché non so se anche tra l'altro questa è la partita che dobbiamo fare perché rimuovi l'ostacolo ok devo andare sopra comunque scusi signora porta va il migliato persona o eccola qua allora dobbiamo andare su dobbiamo andare su quindi andiamo su da questa parte apri porta ok andiamo su sus andiamo molto sus ok togliamo il letto quindi premiamo enter premiamo le mani e togliamo il anno ok perfetto ok rimuoviamo il letto mi sa che dobbiamo andare ancora su perché qui c'è il tesoro eccolo lì ma mi sa che questo l'avevo già fatto credo non lo so adesso vediamo perché non mi ricordo più niente ah devo premere le mani di nuovo la missione completata sì mi sa che questo l'abbiamo già fatto comunque vabbè noi rifacciamo la lettera non la leggo la leggeremo dopo più tardi che salutiamo il remo che ci segue sempre allora adesso devo andare giù mi sa rifare il discorso ok quindi ragazzi vi stavo a dire che dobbiamo fare trovare le ruote mi sa no credo usciamo di qua mi fa uscire ai di qua no ah eccola qua dobbiamo fare giro vedi 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 alle volte e quindi esatto dobbiamo prendere dobbiamo prendere discorso macchine ruote quindi andiamo subito a prendere la ruota una eccola qua purtroppo non era questa la partita però va bene facciamo finta che questa e chi se ne frega insomma alla fine non è un problema raga anche se ci tocca rifare tutto però magari do la possibilità per chi è nuovo di rivedere questo diciamo tutorial per chi magari ha le prime armi così quindi è un ottimo motivo in più ragazzi allora adesso dobbiamo prendere il carburante intanto vabbè lo prendo dopo lo prendo dopo perché vado a prendere le altre ruote che sono qua qua c'è qualcosa altro in teoria in teoria eccolo lì c'era il cosino davanti della macchina eccola qua così do la possibilità però appunto ragazzi di rivedere il tutorial per chi è nuovo in questo caso io per esempio cioè io che sono un po' novizio magari potete vedere anche voi insieme questa cosa insomma no raga comunque sto notando che il 20% che sta guardando i miei video ragazzi non è scritto al mio canale quindi cosa aspetti ad iscriverti è totalmente gratuito non si pagano le iscrizioni ragazzi e tanto meno i like un bel polliciotto in su che quello non si paga e non si pagherà mai non lo so cosa ho detto hashtag cosa ho detto vediamo chi è più più bravo con gli hashtag vediamo vediamo non avete paura di commentare ragazzi che sapete che io i commenti li leggo tutti adesso in teoria ho fatto no no manca una luota io mancale luota io mancale luota che dovrebbe essere questa questa luota trovato luota allora vai missione completata plug essi andiamo dove dobbiamo andare a dobbiamo prendere la tanica raga che qui ok let's go ok adesso andiamo alla stazione di rifornimento raggiungi la stazione di rifornimento che quella mappa da missioni mappa eccola qua potete segnarvi i punti ad esempio stazione di rifornimento ragazzi quindi andiamoci subito che si fa tardi a dopo ragazzi ok ragazzi ci siamo siamo arrivati alla pompa di carburantos eccola qua dobbiamo fare adesso il pieno alla macchina e il pieno alla tannicozza quindi ci lo facciamo subito quindi dammi qui la cosa inserisci dentro e premiamo invio ok carburante a manetta vai vai con liscio 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 di carburante perfetto pieno e facciamo anche ovviamente il pieno alla macchinozza ok ragazzi stazione di servizio completata abbiamo fatto la missione la missione quindi riprendo il mano e cosa direi che ci vediamo dopo quando abbiamo raggiunto l'altro punto ok ragazzi abbiamo raggiunto il punto successivo che dobbiamo andare a parlare con la tipa qui e di là che dobbiamo andare a parlare con la tipa no è qua dentro che dobbiamo andare a parlare con la tipa credo buongiorno è lei che mi ha chiamato si agente immobiliare si sono io agenti immobiliari in questo caso ti darò il manuale di costruzioni questo libro ti aiuterà a si dammi pure il cosino di istruzioni che è questo qua si perfetto allora arrivederci signora e devo andare a parlare con l'altro gino tutti i gini si chiamano qui non me ne voglia chi si chiama gino veramente parlo con il venditore d'auto che eccolo qui ho di rapporto in faccia buongiorno buongiorno signor gino allora ti diamo il benvenuto da qui puoi parlare da qui puoi acquistare o personalizzare auto ok come posso aiutarti arrivederci grazie grazie signor gino grazie mille per il follow allora dobbiamo andare a configurare l'auto teoricamente dobbiamo andare a mettere la radio non so per quale motivo però andiamo a mettere la radio ok mettiamo la radio dove eccolo qua migliora la missione è completata abbiamo già 700 evanos quindi possiamo andare ferramenta raggiunta ferramenta ok devo andare alla stazione di ferramenta che con la minimappa adesso vi faccio vedere è qua quindi è sempre qua vicino ragazzi quindi a dopo ok abbiamo raggiunto la stazione di ferramenta ragazzi parcheggiamo bene se no qua ci fanno una multa come dub ci fa la multa allora cosa devo prendere dottore eccoci qua cosa devo prendere accetta piedi di porco e sega da metallo allora l'accetta piedi di porco e la sega da cos'è che ha detto la sega da banco ok sega da banco e mi dissocio ovviamente quindi hashtag mi dissocio ok grazie per l'acquisto prego allora stanno tutti qua certamente allora prendiamo la nostra mitica accetta ragazzi ok e prendiamo anche ovviamente la scatola che la mettiamo sul nostro furgoncino qui sulla nostra macchina che non hanno pensato che ne avevano fottute ragazzi vabbè allora missione completata ferramenta cosa devo fare adesso parla con il venditore quale venditore a mio il venditore a quello laggiù ok vado dal venditore a dopo ok ragazzi siamo arrivati al venditore top number one viva l'edilizia ok che dobbiamo prendere le galline quindi prendiamo le galline buongiorno signora come sta commissa termina conversazione ti diamo il benvenuto intanto la mia voce se ne va ti diamo il benvenuto per fare un per fare un acquisto usa il terminale nella stazione che vedi qui accanto ok va bene termina conversazione allora terminale cosa devo comprare un cestino e due polli ok cestino e due polli e viceversa vabbè avete capito due polli e cestino eccolo qua cestino ok compra acquista grazie per l'acquisto arrivederci arrivederci gina 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 allora pollo signor pollo buongiorno lei vada sopra la scatola signora signor pollo due lei vada sopra la scatola anche lei ok compriamo il cestino ci mettiamo il cestino nel camiozzo se mi ci sta qua nella macchinozza eccolo qua perfetto ragazzi ci vediamo dopo ok ragazzi intanto preso il pallo e c'è l'albero non so chi che mette gli alberi fuori mano qui non lo so fuori zona vado a scaricare le galline e fare cose quindi se faccio cose avete capito più o meno credo penso boh non lo so eccoci qua missione completata perfetto adesso noi dobbiamo andare in questo nuovo recinto che prendiamo subito l'u pullozzo l'u pullozzo e anche secondo pullozzo quindi hashtag pullozzo no lei non esca no 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 allora questo per intanto lo possiamo mettere qua la benzina anche e anche la moto cosa la moto la moto la moto buongiorno buongiorno allora la lettera del nonno noi non la leggiamo perché siamo bravi allora adesso in teoria ci dobbiamo mettere qui mettiamo il coso per terra e dobbiamo aprire il cosino quindi dobbiamo prendere questo e mettercelo qui eccolo qua perfetto ragazzi direi che per il momento mi fermo qua purtroppo il tempo è stravolato via vi lascio ovviamente con la sigla voi se avete idee domande dubbi curiosità e cose commentate e noi ci vi chiamo molto presto ragazzi con la prossima puntatozza ciao a tutti